I server sono online Mamma mia, 7 ore e 30 di live Ticare, vediamo quanto ci dà di coda Quanto ci darà? 20 minuti 20 minuti di coda Ultimi 5 secondi E ci siamo 8 ore dopo Mamma mia Siamo dentro Pass battaglia, fermo No, non te scioppo, mi dispiace Ti voglio bene Uh, attenzione, sirena rossa La equipaggiamo Poi abbiamo nascosto tutto rosso Tutte queste cose qua di Rocket League Ammazza, quante cose 200 V-Bucks Perché? Ok, ma ho dato 200 V-Bucks Non so perché Abbiamo anche l'ombrello L'ombrello Minchia quante cose ci ha dato ragazzi Buono, allora Prima di tutto quello che dovete fare Negozio oggetti In basso a destra Supporta un creatore Inserite RDT-YT Minchia, hanno cambiato pure tutto Fate cerca E poi Una volta fatto Potete fare annulla Tanto penso che ve lo dà lo stesso Pass battaglia Ottieni il pass battaglia Ok Signore e signori Si acquista Con il codice RDT-YT E andiamo Di prepotenza Poi fate il video Mi taggate su Instagram Che vi riposto Detto questo Hanno cambiato pure Già vedo un sacco di cose Queste cose qua hanno cambiato Tutto l'armadietto Stai calma Stai calma Zero build Andiamo Corso Eccoci Guarda già come Come cammina strano il tizio Il tizio La tizia Questa qui È la mappa Del capitolo 5 E mo dove atterriamo? E che ne so Allo yacht Hanno messo lo yacht Del capitolo 2 Quindi noi atterriamo per forza qui Ma che è tutta sta cosa? Andiamo allo yacht Ma che figata la mappa Arrivo Arrivo yacht Arrivo Eccolo yacht Ah io però ci stanno lì Lo scar Uè Mamma mia lo scar Esteticamente è simile allo scar In realtà non è uguale Che è quello? Un bot? E un altro bot? Madonna Cos'è questo qua? Questo è un pompa Pompa spammerino abbiamo già Madonna quante cose Fermi un attimo Questo cos'è? Un altro pompa Ok Carica Qui abbiamo anche una card Che teoricamente si va ad aprire il bunker Penso di sì Che bello yacht Ciao amico Ammazza il pompa Sembra figo il pompa eh Spamma un po' come un porco in calore Impulso Ma queste che fanno? Ah Ok Ok Ora è tutto più chiaro Ti dà 10 di vita Madonna Ma che è il capitolo Il capitolo 2 Si apre il bunker Let's go Allora abbiamo aperto il bunker Minchia non c'è niente sto bunker Ehi Questo sarà devastante Abbiamo anche il gold finalmente È tornato Grazie a piccicose Scar Questo qua per il momento lo prendiamo E per me vorendo possiamo già andare via Cosa sono quelle cose là Sopra le armi ragazzi? Eh si picchiano Attenzione sta un tizio qua sopra Io li pusho Vado Col pompa spammerino Uuuu Ma sembra una specie di pompa tamburo Questo qua Vi faccio ste due cose Uno Due Questo trigamento è un altro pompa Vero? Questo è il pompa Il pompa singolo Ma io mi lascio il pompa spammerino Abbiamo anche una cesta Do Aia Aia Lo scudo E la pistola Guarda qua Abbiamo azione abbiamo un tizio Due tizi che si picchiano Attenzione Io vedo un po' di casino Dobbiamo sparare a lui Ciao amico Vieni qua che tanto c'è lo scudo Schiatta Ok Ma noi abbiamo lo scudo amico mio Dove vuoi andare? Vieni qua dove vai? Guarda guarda come lo pusho Non puoi prendermi piccolo bot Schiatta Madò Aia Aspetta aspetta che mi copro Ciao Come copro e poi ti uccido Mori Allora è un attimo da capire sto scudo qua con la pistola Sembra molto utile Questo cos'è? Un assalto questo qua è Ah questo qua è l'assalto che avevamo prima Bono cacchio Lo lasciamo questo qui Ah vedi questo qua è il rampino nuovo Tu fai così Boom E ti fa Ti fa volare Non è Fabio Vazzi no Così Sveam Abbiamo sbloccato Riviera raffinata 30-30 in testa e ci muore Ok L'abbiamo dei bot Provo un attimo a spararli Allora aspetta un attimo perché abbiamo gente Due secondi Vadi qua Colè Bello cacchio Bello Minchia sto rampino però sembra buonissimo eh Guarda come salta Fermi Mamma mia quanto è forte sto R Madò Capacca vacca ragazzi Se hai una buona mira lo sciogli Non è il mio caso perché non è il mio caso però Altra gente eh 27 rimasti 5 kill Continuiamo ad andare Fai da qua E se vola L'abbiamo sbloccato anche piazza piacevole Prova a pusharli Vado col pompa Ok kill per noi E poi andiamo di R Ok perché lui è una bella mira Lo puscio Ok schiatta va Rompe le palle Cos'è Il pompa col mirino Se l'è modificato il tizio Per forza Aia Boni perché qua c'è un tizio È un bot Meno male Però non era lui che c'aveva la taglia eh Vediamo da lontano se è buono Eh da lontano non lo so È la mia mira che sicuramente che non è buona Sto un po' come è sicuro Vado di pompa Vado di pompa Mamma mia meno male che ce l'abbiamo Fortissimo sto pompa Devastante Uh Medaglione di Peter Griffin What the fuck Che cos'è Ok Ah un'altra novità è che ovviamente Puoi farti gli scildoni O gli scildini Camminando Quindi è buonissimo Abbiamo lo scar col mirino adesso Wow È il treno È vero il treno Merda è vero Aspetta 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 Senti il treno senti Ciuf ciuf Aspetta però Dov'è che stai Eccolo Arrivo 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 Aia dove cacchio vado No aspetta Aspetta Un attimo un momento 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 Eccolo siamo saliti sopra Madò Ah vai treno Dove mi porti A home boat Treno Mi porti a Milano centrale Ah io rimango qua sopra Che mi frega a me Grazie treno Grazie per avermi portato In cosa Grazie Intanto siamo rimasti in sei Questo qua che cacchio ci fa qui Oddio Che per noi Ho una medaglia Oh porca miseria ragazzi Un attimo Momento 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 per favore Devo scappare via Vai vai con la jump Via Però perché mi sta dando lo shield Come è possibile Ragazzi mi sta dando lo shield Dove non mi sono fatto nulla Mi sto fullando Easy Mi sono fullato così a cacchio di cane Oh cacchio Aspetta Vai con lo scar Oh Ma non mi ha dato neanche il tempo Di fare la razione Madonna Ma che è sta cosa Questa qua è una mitraglietta Ok Ragazzi ma che cacchio è Ma io c'ho lo scar Amico mio Io c'ho lo scar Guarda Guarda come mi dà la vita Vedete che mi dà la vita Non era il pesce di prima Aia Amin che uno più uno eh Occhio che uno più uno Uh T'ho visto T'ho visto T'ho visto Merdoso Se voleva capire Adentro c'è spuglio il bro Non ha capito il bro Il bro non ha capito Mi sa Vieni qua Pucci Pucci Vieni qua Merdoso Questa Questa È la potenza Del codice RDT Prima partita Del nuovo capitolo Una partita incredibile Vittoria con 13 kill E in questo capitolo Ragazzi Noi ci mangiamo Tutti Tutti ci mangiamo Grazie mille a tutti quanti Per aver visto questo video Ci vediamo tutti i giorni live Alle 19 e 30 Donnelli al venerdì Il sabato e la domenica Invece la mattina Codice RDT Y Mi raccomando Ciao belli